Salve a tutti e bentornati qui su Dr. Cinema. Come sempre all'inizio io vi invito ad iscrivervi al canale qualora non l'abbiate ancora fatto. Il canale sta crescendo davvero sempre di più e questo solo grazie a voi e vi ringrazio. Quindi continuate ad iscrivervi e una volta iscritti ricordatevi anche di attivare la campanella in maniera tale che YouTube vi possa mandare le notifiche ogni volta che pubblicherò un video. Quindi iscrivetevi e attivate la campanella. Detto questo sigla e poi partiamo. E allora bentrovati in questo nuovo video. Qualche video fa ho realizzato nuovamente una breve carrellata di titoli che vi consiglio di vedere o di rivedere su Netflix. È un format che avevo inaugurato già a gennaio quindi con una lista che generalmente spero di poter fare sempre abbastanza breve quindi sette titoli in genere, sette film. Quindi lo scorso video ho fatto una carrellata di sette titoli che sono stati pubblicati o verranno pubblicati a breve nel catalogo di Netflix. Oggi invece ritorniamo su Prime Video. Quindi vi farò un elenco, un breve elenco. Non sarà una classifica, chiaramente non sarà una top seven ma sarà appunto una breve lista in ordine sparso di sette film che secondo me vale la pena vedere, vale la pena conoscere e vale la pena anche rivedere nel caso in cui li conosciate già. Quindi sono sette titoli che sono stati già pubblicati nel catalogo di Prime Video o verranno pubblicati a breve. Partiamo con il primo titolo, il primo titolo è davvero un grandissimo film, un film che io amo rivedere di tanto in tanto anche se già è da un po' di tempo che non lo guardo quindi ottima occasione il fatto che sia su Prime Video cioè Dallas Buyers Club, un film con un grandissimo Matthew McConaughey probabilmente ha la sua miglior prova in carriera e infatti è stata premiata con l'Oscar, è un altrettanto gigantesco Jared Leto, anche lui premiato con l'Oscar come miglior attore non protagonista un duetto davvero indimenticabile per un film indimenticabile, è un grandissimo film, uno dei migliori film secondo me di questo decennio o del decennio scorso per meglio dire, un film che io vi consiglio di recuperare, un film anche abbastanza duro un film crudo per quella che è la trama, per quello che è la storia, tra l'altro è un film che fa riferimento ad una storia ad un personaggio realmente esistito quindi io vi consiglio di recuperarlo perché davvero troverete probabilmente tra i duetti artistici e attoriali migliori degli ultimi tempi con due grandissimi giganteschi attori in due personaggi davvero indimenticabili, difficilmente questo film se ne va via dalla memoria difficilmente questi personaggi vanno via dalla memoria quindi il fatto che sia stato pubblicato nel catalogo di Prime Video è un'ottima occasione per recuperarlo qualora non lo conosciate e soprattutto è un'ottima occasione e io penso che la sfrutterò a breve per poterlo rivedere quindi primo titolo di questa breve carrellata Dallas Buyers Club. Un altro titolo che vi voglio segnalare è probabilmente uno dei film d'animazione giapponesi più importanti della storia e cioè Akira uno degli anime migliori che io conosca anche se non ho una grande cultura in questo senso ma davvero proprio perché non sono un grande fan un grande appassionato di questo mondo però Akira è stato in grado davvero di emozionarmi è stato in grado di sconvolgermi per molti aspetti per quella che è la storia per quello che è il modo in cui è stato realizzato tra l'altro stiamo parlando comunque di un anime di ormai diversi anni fa molti anni fa quindi davvero è qualcosa che riesce ancora oggi a mantenere intatto tutto il proprio fascino e secondo me uno di quei film da dover vedere da dover conoscere se ci si vuole approcciare a questo tipo di prodotti io ripeto non sono un grande amante degli anime non sono un grande amante neanche delle serie tv diciamo delle serie più che altro anime però Akira è Akira Akira si deve conoscere Akira si deve vedere almeno una volta nella vita quindi il fatto che sia presente nel catalogo di Prime Video è un'ottima occasione per poterlo guardare per poterlo ammirare poi chiaramente può anche non piacere perché il prodotto non è pensato per poter essere apprezzato da tutti per poter essere amato da tutti è davvero qualcosa di abbastanza settorializzato diciamolo così però vi consiglio di guardarlo perché potrebbe anche essere la scintilla in grado di farvi scattare l'amore verso questo tipo di prodotti quindi Akira su Prime Video è un film che non potevo non segnalarvi e passiamo ora ad un film italiano ad una commedia italiano di ormai qualche anno fa tra l'altro una commedia dalla quale verrà tratta anche una serie tv e cioè tutta colpa di Freud probabilmente è uno dei film più gradevoli più intelligenti degli ultimi tempi io quando mi approccio ad una commedia italiana soprattutto da una decina d'anni a questa parte sono sempre come dire in tensione perché il rischio di trovare una schifezza è sempre dietro l'angolo però devo dire che tutta colpa di Freud tutto sommato mi ha sorpreso mi ha saputo intrattenere è una appunto ripeto delle commedie più intelligenti più gradevoli che si possano trovare nel panorama nel panorama cinematografico delle commedie italiane degli ultimi tempi quindi è stato pubblicato su Prime Video io vi consiglio di recuperarla perché ripeto già da non amante delle commedie italiane degli ultimi 15-20 anni questa tutto sommato mi è piaciuta quindi dovrebbe essere qualcosa di indicativo dovrebbe potervi piacere anche a voi quindi ve la segnalo tutta colpa di Freud lo trovate su Prime Video lo troverete in realtà nel momento in cui sto pubblicando questo video tra qualche giorno probabilmente verso fine mese però verrà pubblicato nel catalogo di Prime Video passo poi ad un film di con più che altro con Eddie Murphy tra l'altro è come dire su Prime Video sono stati pubblicati diversi film con protagoniste di Murphy in attesa di quella che sarà la pubblicazione del sequel del principe cerca moglie che è presente anche nel catalogo però io vi voglio segnalare Beverly Hills Cop 3 in piedi piatti a Beverly Hills 3 chiaramente già sono presenti anche il secondo e il primo capitolo ma è stato pubblicato anche il terzo capitolo di questa saga diciamo di questo franchise probabilmente non è il migliore appunto di questa saga però chiaramente è un film che io vi voglio segnalare e chiaramente unitamente a questo vi segnalo anche gli altri due indirettamente perché davvero è qualcosa comunque che ha segnato un decennio ha segnato gli anni 80 quindi probabilmente troviamo anche il più geniale di Murphy da di sempre perché in questo personaggio ritroviamo tutta la sua comicità tutto il suo modo di fare il suo modo anche di stare in scena chiaramente con il doppiaggio storico mitico di Tonino a colla quindi Beverly Hills Cop 3 ve lo segnalo ripeto unitamente agli altri due che già erano presenti nel catalogo di Prime Video e adesso voglio segnalarvi un altro film con Eddie Murphy e cioè Dreamers un film musical o comunque musicale per meglio dire io tra l'altro non amo granché questo genere di film però questo lo trovo particolarmente interessante quindi anche qui deve essere particolarmente indicativa il mio suggerimento perché se è piaciuto a me è possibile che possa piacere anche a tante altre persone tra l'altro in questo film in Dreamers abbiamo la possibilità di apprezzare un Eddie Murphy diverso dal solito, un Eddie Murphy che si allontana da quelli che sono i canoni ai quali ci ha spesso abituati durante la sua carriera un Eddie Murphy lontano dall'essere comico, dall'essere anche a volte demenziale un film interessante, un personaggio appunto quello di Eddie Murphy molto interessante quindi vi segnalo il fatto che sia stato pubblicato su Prime Video proprio questo film quindi Dreamers poi vi voglio segnalare anche quello che è l'ultimo film di Jim Jarmusch un film che è stato criticato da tante persone ma io l'ho adorato e cioè I morti non muoiono è un film che ha scatenato delle critiche perché? perché è uno zombie movie diciamo in linea generale ma in realtà è qualcosa che va molto al di là del semplice genere nel quale poterlo inserire Jim Jarmusch con questo film ci riesce a raccontare la società moderna sfruttando quello che è il genere dello zombie movie secondo me in maniera molto intelligente a tante persone non è piaciuto viene ritenuto un film lento viene ritenuto un film anche troppo paradossale io non ho trovato nessuna di queste criticità è un film davvero molto intelligente un film anche divertente in alcuni momenti a tratti sorprendente per me davvero è una piccola perla un piccolo gioiellino che vi consiglio di recuperare quindi I morti non muoiono con tra l'altro Bill Murray tra gli altri abbiamo anche Adam Driver un film che a me è piaciuto quindi non potevo non inserirlo in questa breve carrellata di 7 titoli presenti su Prime Video quindi I morti non muoiono e voglio chiudere questa breve carrellata con un film che probabilmente non è sicuramente un capolavoro non è forse neanche il migliore tra quelli che sono i film che vi ho citati in questo video però è un film al quale io sono particolarmente legato innanzitutto perché è un film che appartiene alla mia adolescenza tarda adolescenza e poi c'è un attore che avrebbe poi saputo affermarsi in maniera direi eclatante cioè il destino di un cavaliere con Heath Ledger quindi davvero un film che per quanto abbia tanti difetti per quanto non sia un film perfetto per quanto sia un film davvero anche in alcuni momenti poco realistico ma è lo spirito del film io voglio comunque segnalarvelo perché permette comunque di apprezzare Heath Ledger all'inizio comunque della sua carriera più o meno avrebbe poi saputo sfornare delle prove attoriali decisamente migliori negli anni successivi purtroppo per troppo poco tempo però il destino di un cavaliere è un film che io mi porto sempre nel cuore è un film che amo rivedere di tanto in tanto soltanto così anche per intrattenere per potermi rilassare per poter passare un paio d'ore in totale relax e divertendomi tra l'altro quello che a me entusiasma di questo film è la colonna sonora perché vengono utilizzati dei brani moderni comunque relativi anche a quello che era l'anno in cui è uscito il film dei brani totalmente moderni, totalmente contemporanei chiaramente in una situazione, in una storia che fa riferimento al medioevo più o meno quindi questo impatto, questo scontro tra quello che vediamo e quello che sentiamo mi ha sempre affascinato è un po' quello che succede anche nel film Maria Antoniette di Sofia Coppola quindi questo connubio, questa strana associazione tra una storia di stampo medievale e delle musiche e delle canzoni moderne mi ha sempre intrigato ed entusiasmato e poi, ripeto, ci permette di godere comunque di una prova di un attore che purtroppo rimpiangiamo sempre, ogni giorno e cioè Hit Ledger quindi il destino di un cavaliere lo trovate su Prime Video con questo chiudo quindi questa mia breve carrellata di sette titoli da poter spulciare da poter guardare su Prime Video io, come ho detto anche negli altri video io vi consiglio e vi invito anche a scrivere qui tra i commenti altri titoli, altri film che sono presenti nel catalogo di Prime Video che magari sono usciti da poco e che chiaramente non ho potuto mettere in questa lista perché ho voluto chiaramente tenermi su un numero abbastanza limitato quindi di sette film ma se voi avete delle segnalazioni se avete dei titoli che volete segnalare a me e anche agli altri scriveteli tra i commenti io sono curioso sempre di sapere la vostra opinione e come sempre non serve anche ad aumentare la già lunga chilometrica lista di film da recuperare quindi scriveteli tra i commenti perché sono curioso di saperli io, come sempre, vi ringrazio per l'attenzione che decidete ogni volta di regalarvi io vi invito davvero nuovamente ad iscrivervi al canale ad aiutarmi a farlo crescere sempre di più attivate la campanella in maniera tale da ricevere le notifiche e gli aggiornamenti su quando pubblicherò i prossimi video io vi do l'appuntamento ad un prossimo video ad una prossima video recensione oppure anche nella mia pagina Facebook Doctor Cinema alla quale vi consiglio sempre di iscrivervi vi ringrazio e vi auguro una buona continuazione di giornata e ci vediamo presto ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti